Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento che fa parte del percorso formativo legato la quinta edizione dell'iniziativa Il Censimento Permanente sui Banchi di Scuola, un progetto come molti di voi sapranno di comunicazione dei censimenti e di promozione della cultura statistica che è promosso dall'Istat grazie alla collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quest'anno abbiamo il piacere davvero di iniziare le nostre attività con due appuntamenti che riteniamo assolutamente importanti. Si tratta di due eventi di formazione sull'utilizzo di due banche dati Istat estremamente rilevanti che raccolgono la produzione statistica ufficiale dell'Istituto. L'obiettivo qual è? È quello di aiutare voi insegnanti ad accompagnare i vostri alunni alla scoperta del patrimonio informativo che l'Istituto Nazionale di Statistica produce, raccoglie in banche dati e diffonde attraverso le piattaforme online. Il primo webinar, quello di oggi, è dedicato alla banca dati e censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che è un sistema di diffusione di dati censuali che consente la lettura di informazioni complete delle rilevazioni che sono svolte. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà Enrica Massi, alla quale do il benvenuto, esperta di questa banca dati. Enrica infatti si occupa della gestione e dell'implementazione dei sistemi informativi con i quali l'Istat mette a disposizione degli utenti i dati e i microdati provenienti dalle varie indagini e rilevazioni e in particolare cura la banca dati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che è l'oggetto del nostro incontro. Poiché siamo all'avvio di questa nuova edizione del censimento permanente sui banchi di scuola, ovvero la quinta, come vi dicevo, ed è questo il primo appuntamento ufficiale di questa edizione. In maniera molto sintetica vorrei delineare il quadro entro il quale questo appuntamento si inserisce. Perciò avvio la mia presentazione e spero che possiate vederla. Se ci sono problemi di presentazione magari fermatemi. Allora, stiamo parlando di un'iniziativa che è stata avviata nel 2019 e che quest'anno compie il suo quinto anno, questa iniziativa nasce in un contesto molto preciso, quello della campagna di comunicazione integrata dei censimenti permanenti, in particolare del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che è stata avviata proprio con la trasformazione di questi censimenti, che sono divenuti da decennali a permanenti, ovvero a cadenza annuale. Quindi all'inizio il progetto nasce con l'obiettivo di comunicare questa trasformazione. Ad un certo momento, dalla terza edizione in poi, in considerazione anche del gradimento e dell'interesse riscontrato da parte delle scuole, diventa un'iniziativa corrente dell'Istituto, che si aggiunge ai vari progetti di promozione della cultura statistica che l'Istituto mette in campo annualmente e rivolge in particolare a un target preciso, quello delle scuole. Infatti, questa iniziativa si rivolge in particolare alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di comunicare ai giovani le novità dei censimenti permanenti e l'importanza della statistica per la conoscenza, la lettura e la comprensione della realtà. Si divide in due parti importanti allo stesso modo. Una prima parte consiste in un percorso formativo, che è quello che stiamo vivendo anche oggi attraverso questo webinar, che è differenziato per ordine scolastico, al quale poi si collega un contest che ha una parte attiva che vede gli alunni protagonisti delle attività e che prendono parte ad una competizione statistica, le censigare, e ha un concorso di idee per la creazione di un progetto creativo sul tema censimento e territorio. Questo è un progetto che ha una cadenza annuale, inizia a ottobre, momento del lancio delle attività, e si conclude a maggio, entro il 31 di questo mese, noi infatti decretiamo la classe vincitrice di questa iniziativa. Il percorso formativo si articola prevalentemente in quattro moduli, suddivisi in due parti. Due moduli sono di tipo trasversale, destinati sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria di primo grado. Il primo modulo, conosciamo il censimento, ha lo scopo di spiegare cosa sono i censimenti e come sono cambiati, divenendo permanenti, e ne traccia le evoluzioni dalle origini sino ai giorni nostri, focalizzando chiaramente l'attenzione sul nostro paese. Il modulo 2, a cosa servono i dati, è molto pratico perché spiega a cosa serve in realtà nella vita quotidiana un individuo, un qualsiasi cittadino, la statistica, cosa racconta della nostra vita, e illustra come le quantità descrivono e consentono di comprendere il territorio e i fenomeni a esso collegati. Avvicina dunque la statistica ai ragazzi, fa capire loro perché è opportuno conoscerla, comprenderla, saperla leggere. La seconda parte del materiale formativo si divide in altri due moduli, il modulo 3 e il modulo 4. Ecco, l'evento di oggi, questo webinar fa parte proprio del modulo 3. Impariamo a leggere i dati e utilizzarli. Questo modulo infatti fornisce i dati delle varie rilevazioni del censimento della popolazione e delle abitazioni, e anche dei tutorial grafici che consentono la navigazione nelle banche dati Istat. E questo è una sorta di tutorial, il webinar di oggi, quello che vivremo la prossima settimana, è una sorta di tutorial che aiuterà a entrare in queste banche dati e ci farà capire come poterle utilizzare e come trasferire le modalità di utilizzo anche ai vostri alunni. Il modulo 4, anch'esso molto pratico, ci fornisce delle linee guida per affrontare il contest e quindi ci spiega come prepararsi alla competizione statistica, le censicare e come realizzare il progetto creativo sul tema censimento e territorio. L'obiettivo di questi moduli è quello di fornirvi tutto il materiale necessario per poter procedere autonomamente con le vostre classi, quindi contenuti di questi moduli, voi li potrete prendere, utilizzare e adattare al contesto classe, agli alunni che voi conoscete benissimo, in modo tale da poter raggiungere degli obiettivi che voi stessi vi prefissate, senza dover andare a cercare altri materiali altrove, ma l'obiettivo nostro è quello di semplificarvi il più possibile tutte le attività. E questa è la parte diciamo più divertente che vede gli alunni protagonisti, quindi da le censicare al progetto creativo. Attraverso l'utilizzo delle banche dati, entrando proprio all'interno di tutte queste quantità, gli alunni inizieranno a prepararsi e a partecipare a questa competizione statistica, le censicare, che coinvolgono tutte le classi iscritte all'iniziativa. Anche i contenuti della competizione statistica sono chiaramente differenziati per ordine scolastico. Ciascuna classe sarà rappresentata da un alunno, l'ambassador, che lo stesso insegnante individuerà all'interno della classe e questo ambassador sarà aiutato nel momento di svolgimento della cara dai suoi compagni di classe, quindi sarà lui materialmente a rispondere, a cliccare sulle domande, ma tutta la classe potrà supportarlo e aiutarlo a selezionare le risposte corrette. Le censicare prevedono 30 domande a risposta multipla, 15 di carattere generale sui censimenti, contenuti che sono all'interno del modulo 1 del materiale formativo, 5 sull'importanza della statistica e andiamo verso il modulo 2, e 10 sui dati censuari, che sono il cuore di questo modulo che stiamo vivendo anche attraverso questo webinar. Il punteggio ottenuto andrà a costituire un bonus che la classe potrà sfruttare nel corso della valutazione del progetto creativo, quindi se due progetti saranno valutati a pari merito, il punteggio accumulato durante la competizione statistica potrà fare la differenza. Ed entriamo quindi velocemente nella seconda fase del contest, cioè la creazione di un progetto creativo, rappresentare il proprio territorio attraverso le quantità che ormai gli alunni saranno perfettamente in grado di andare a rintracciare dentro le banche dati Istat e raccontare da svariati punti di vista alcuni aspetti della propria realtà. attraverso che cosa? Attraverso un racconto per la scuola primaria e attraverso un'infografica o un'istantanea per la scuola secondaria di primo grado. Quindi i progetti creativi saranno diversi, quindi per il racconto gli alunni potranno scrivere un testo che potrà essere liberamente arricchito da immagini, disegni, foto, vari collace, purché non vengono utilizzate immagini di alunni ad esempio o comunque di persone riconoscibili e potranno presentare questo racconto su svariati supporti, su fogli, cartoncini, testi scritti a mano sul computer e ogni anno arrivano dei racconti veramente belli. Per la scuola secondaria di primo grado abbiamo detto che è prevista la creazione di un'istantanea che può essere un'infografica, una card, una foto e anche in questo caso potrà essere arricchito da testi, da immagini grafici, disegni e non utilizzare immagini, volti riconoscibili di alunni o di persone che fanno parte della scuola. Tutte le spiegazioni su come partecipare a questa iniziativa, su quali sono le varie scadenze, quindi sul calendario ma anche su le varie fasi del progetto sono contenute all'interno di una pagina dedicata sul sito Istat e questo è il link. Allo stesso modo per poter andare a reperire i materiali formativi esiste un'altra pagina dedicata dove qui potete vedere i link al modulo 1, al modulo 2 che come abbiamo detto sono trasversali e due ordini scolastici e poi al modulo 3 e al modulo 4 che sono invece differenziati. Come vedete da questo screenshot sono menzionati anche i due webinar ai quali siete stati invitati a partecipare e presto i titoli di questi due webinar diventeranno a loro volta dei link per cui le registrazioni di queste giornate potranno essere riviste anche in un momento successivo e potranno essere un valido aiuto per poter andare a raccontare come utilizzare queste banche date ai vostri alunni. I webinar sono supportati allo stesso modo da tutorial grafici, quindi quello che oggi le nostre colleghe andranno a raccontarvi potrete poi ritrovarlo anche su questi tutorial grafici che sono contenuti nella cartella dedicata al modulo 3. Non rubo altro tempo, vi lascio con questa slide che racconta nuovamente il calendario delle attività e vi dà la possibilità di visualizzare i link utili per partecipare all'iniziativa. Io vi do il benvenuto ancora una volta a questa quinta edizione del censimento permanente su banchi di scuola e lascio con grande entusiasmo la parola ad Enrica Massi la quale entrerà nel vivo di questo appuntamento parlandoci della banca dati censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Prego Enrica. Grazie Francesca. Allora un saluto a tutti i partecipanti che vedo numerosi e sono contenta di essere qui con voi per mostrarvi i risultati del censimento permanente della popolazione a cui molte famiglie hanno collaborato attraverso le rilevazioni che sono state condotte presso i comuni. Farò inizialmente una breve premessa con il sopporto di veramente pochissime slide per inquadrare un po' l'argomento, dopodiché entreremo nel vivo della presentazione perché navigheremo insieme la banca dati in modo tale che vi potrò mostrare concretamente quelli che sono i dati che potete consultare, come sono organizzati questi dati all'interno della banca dati e poi con degli esempi pratici vi mostrerò come poter personalizzare le tavole di visualizzazione e quindi poi diventerete sempre di più autonomi nell'utilizzo della banca dati. Quindi condivido lo schermo per attivare queste piccole slide. Allora diciamo che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni permette di conoscere delle informazioni importanti sulla popolazione che dimora abitualmente in Italia. In particolare sono messi a disposizione del pubblico quali dati? I dati della popolazione per sesso, per età, per cittadinanza, quindi possiamo conoscere quanti sono gli italiani, quanti sono gli stranieri, per gli stranieri l'area geografica, il paese di cittadinanza, possiamo consultare i dati della popolazione per grado di istruzione, condizione professionale, possiamo anche visualizzare quanti si spostano giornalmente per studi e lavoro, c'è anche un argomento che riguarda le famiglie, poi ci sono anche i dati sulle convivenze anagrafiche e le cosiddette popolazioni speciali, cioè le popolazioni costituite dai senza tetto, senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati. Vorrei evidenziare che per convivenze anagrafiche si intendono quell'insieme di persone che normalmente coabitano per motivi di cura o di pena oppure per assistenza, quindi per esempio sono quelle persone che coabitano all'interno degli istituti penitenziari, dei conventi, eccetera. Poi un altro argomento importante sono le abitazioni occupate, quindi a titolo di proprietà o affitto. Tutti questi dati vengono aggiornati annualmente, anche se magari in periodi diversi. Poi un altro argomento che è stato inserito all'interno della banca dati, recentemente, è la popolazione italiana dalla nascita italiana per acquisizione estraniera apolide. Questo però è quindi l'argomento praticamente quella che viene chiamata esperienza migratoria. Questi dati sono focalizzati solo all'anno 2021, quindi è un approfondimento di questo anno, non verranno aggiornati. Tutte queste informazioni sulla popolazione sono disponibili a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Quindi l'importanza di questa banca dati è proprio il livello territoriale comunale, perché poi, come vedrete con l'altra presentazione della mia collega, con l'altra banca dati, molte delle indagini che conduce l'Istat invece sono indagini campionari che non consentono una diffusione a livello comunale. Quindi la diffusione si ferma ad un livello territoriale, regionale o provinciale. Quindi il cuore di questa banca dati sono proprio i dati comunali. E il nuovo censimento permanente si basa sull'integrazione tra i dati di fonte amministrativa e quelli che invece provengono dalle rileviazioni che ogni anno non convolgono un campione rappresentativo di comune e di famiglie. E l'Istat quindi è in grado di fornire informazioni appunto continue annuali rappresentative dell'intera popolazione e contemporaneamente, grazie al censimento permanente della popolazione, sono stati notevolmente ridotti i costi, perché invece nel censimento tradizionale decennale, che riguardava l'universo della popolazione, i costi erano molto elevati. E vorrei sottolineare che grazie alla collaborazione di tutte le famiglie campione è possibile conoscere meglio il paese in cui viviamo. Ora, diciamo che vi ho inserito il link alla banca dati e la banca dati è organizzata in due grandi sezioni, cioè la sezione costruisci tavole grafici e la sezione visualizza per territorio. Nella sezione costruisci tavole grafici, le tavole di navigazione sono organizzate per territorio, quindi si dà enfasi al territorio e vedrete che sono organizzate per singola regione e c'è una cartella specifica per le regioni e le province. E come dice proprio la dicitura costruisci tavole grafici, è possibile personalizzare le tavole di navigazione, le tavole online e modificare il tempo, il territorio, le informazioni che sono infiancate e intestate, estrarre i dati e anche navigare grafici e mappe. Nell'altra sezione invece visualizza per territorio, le tavole, i grafici e eventualmente le mappe, invece sono organizzati per argomenti e quindi una volta selezionato un territorio di interesse, che può essere anche il singolo comune, automaticamente tutti questi oggetti si presentano con il territorio che è stato selezionato, con il territorio di interesse. E questa è la banca dati, quindi lascio queste slide per entrare proprio nella banca dati online. Come vi accennavo, quindi ci sono queste due sezioni, costruisci tavole grafici e visualizza per territorio. Entriamo in costruisci tavole grafici. Come accennato nelle slide, tutta l'informazione statistica, tutti i dati, sono organizzati per territorio, per singola regione. Volevo sottolineare però che tutte le tavole di navigazione sono le stesse, quindi nel momento in cui entro dentro Piemonte trovo le stesse tavole di navigazione che trovo navigando nelle altre singole regioni. E quindi se entro dentro Piemonte potrò visualizzare queste tavole con il territorio specifico del Piemonte, quindi con le sue province fino al dettaglio comunale. Mentre se entro nella cartella che qui vi evidenzio, regioni e province, cambia il dettaglio territoriale perché invece qui potrò navigare le stesse tavole, però con tutte le regioni e tutte le province. C'è perdo il dettaglio comunale. Questo cosa significa? Che se sono interessata a un territorio in particolare, cliccherò sulla regione di interesse. Se invece voglio fare dei confronti tra le regioni o tra le province, cliccherò sulla cartella regioni e province. Avrò a disposizione le medesime tavole. A questo punto prendo ad esempio il Piemonte per mostrarvi appunto finalmente i contenuti statistici. Poiché le tavole di navigazione sono numerose, sono state organizzate per argomenti. Quindi c'è l'argomento popolazione, quindi se siete interessati ai dati proprio specifici della popolazione, cliccherete su questa cartella. altrimenti c'è una cartella specifica per le famiglie, per le convivenze enagrafiche, per i senza tetto e i campi attrezzati o per le abitazioni. Clicchiamo su popolazione. Qui troviamo due sotto argomenti di dettaglio. Quindi abbiamo la popolazione per caratteristiche demografiche e cittadinanza oppure la popolazione per istruzione lavoro e spostamenti per studi al lavoro. Esploriamo la prima cartella, caratteristiche demografiche e cittadinanza. A questo punto abbiamo un elenco di tavole dati. Quindi abbiamo la popolazione residente per singola età, quindi età puntuale, da 0 a 100 anni e più, per sesso e cittadinanza. Oppure abbiamo la popolazione residente per classi quinquennali, decennali, poi abbiamo una tavola specifica sugli stranieri per area geografica e paesi di cittadinanza, poi principali paesi di cittadinanza e indicatori demografici. Adesso ne apro una a titolo di esempio, perché non le potremo aprire tutte, sono parecchie, ma giusto per farvi vedere. È chiaro che dovete attendere un po' perché il sistema deve interrogare la tavola, che è molto ricca di dati perché ci sono le età puntuali, più tutti i dati a livello comunale per il Piemonte, quindi i tempi di risposta sono un po' lunghetti. Dovete solo avere pazienza di aspettare che il sistema apra la tavola. A questo punto siamo nella tavola di navigazione dove possiamo leggere i dati. Il titolo della tavola lo avete all'inizio, quindi popolazione residente per singola età, sesso e cittadinanza Piemonte, poi avete l'informazione che questi dati sono diffusi con cadenza annuale, l'indicatore che leggete nei dati è la popolazione residente che viene articolata per territorio che è a tendina e invece in righe infiancata avete l'età puntuale e in colonna, cioè in testata della tavola, avete l'ultimo anno disponibile, il 2022, e la cittadinanza italiano e straniero e per italiano e straniero lo specifico del sesso, maschi, femmini e totale. Quindi è una tavola molto ricca di informazioni. Potete navigarla semplicemente attivando la tendina e scrivendo per esempio il comune di interesse, che ne so, agli E, e automaticamente il sistema aggiorna la tavola per quello specifico comune. adesso cambiamo per esempio, abbiamo visto un esempio delle tavole che sono presenti sotto caratteristiche demografiche e cittadinanza. Per tornare indietro o usate la solita freccia del browser oppure vi faccio notare che in alto avete il percorso che avete seguito. Quindi siete entrati nella home, nelle varie categorie e in particolare nel Piemonte. Poi abbiamo cliccato su popolazione Piemonte e caratteristiche demografiche. Quindi torniamo all'argomento precedente, popolazione. E a questo punto clicchiamo sull'altro argomento, istruzione lavoro e spostamenti per studio e lavoro. A questo punto avete delle tavole. Potete scegliere l'argomento di interesse che può essere il grado di istruzione per età oppure per cittadinanza, oppure la condizione professionale per età e cittadinanza. E poi c'è una tavola specifica sugli spostamenti per studio e lavoro. Ritorniamo, abbiamo esplorato i contenuti dell'argomento popolazione, torniamo a Piemonte. E magari siamo interessati invece a conoscere il numero delle famiglie. E per questo argomento abbiamo a disposizione il numero di famiglie e popolazione residenti in famiglia. Quindi quante sono le famiglie e quante sono gli individui che vivono nelle famiglie. Poi il numero medio di componenti per famiglie. Poi c'è una tavola specifica proprio sulle famiglie. Poi una tavola che mette in evidenza anche la presenza di stranieri, quindi famiglie con almeno uno straniero residente o famiglie con tutti i componenti stranieri. Adesso ne apro una anche qui a titolo di esempio. Per esempio numero medio di componenti per famiglia. Dovete solo avere un attimo di pazienza perché comunque le informazioni a disposizione sono notevoli e quindi il sistema ha bisogno di recuperare tutti i dati. Allora, questa tavola avete sempre il titolo numero medio di componenti per famiglie, frequenza annuale e in questo caso avete più anni a disposizione messi a confronto, il 2018, il 2019, il 2020 e il 2021. E potete leggere il numero medio di componenti per famiglia per i vari anni. Vedo, diciamo, tendenzialmente sul due virgola qualcosa. Poi ritorniamo a Piemonte e poi potete navigare le convivenze anagrafiche, i senza tetto e le abitazioni. Per esempio le abitazioni può essere utile così verificare quante abitazioni sono a titolo di proprietà in affitto. In Italia sappiamo che tutti vogliamo la proprietà almeno di una casa. Infatti vedete che per esempio in Piemonte nel 2019 c'è una notevole prevalenza di abitazioni in proprietà rispetto all'abitazione in affitto. Ora ritorniamo indietro a Piemonte e quindi in questo modo abbiamo visto tutti i contenuti informativi per quanto riguarda il Piemonte. Ma queste stesse tavole le trovate organizzate nello stesso modo per le altre regioni. Invece in regioni e province, ve ne apro una per esempio, in regioni e province invece per esempio avete una tavola in cui il dettaglio territoriale sono semplicemente le singole regioni. Non avete più il dettaglio comunale. Oppure avete un livello territoriale che si ferma le province. Quindi per esempio la popolazione residente per classi di età decennali, sesso e cittadinanza e vengono messe a confronto tutte le province che le avete infiancata. Diciamo che in questo modo più o meno vi siete fatti un'idea dei dati che avete a disposizione all'interno della banca dati. Adesso proviamo a vedere il sistema cosa consente di fare. Ritorniamo, apriamo una tavola per esempio popolazione residente per classi di età quinquennali e sesso. E vediamo come possiamo personalizzare la tavola, estrarre i dati, vedere i grafici, le mappe. Aspettiamo sempre i tempi di risposta del sistema. Ok, allora abbiamo sempre il titolo della tavola all'inizio e analizziamo un attimo questa tavola. Vediamo che il sesso è a tendina, quindi lo possiamo navigare a tendina, passare dal totale alle femmine o ai maschi. E va bene. Poi vediamo che la tavola è molto ricca di informazioni, specialmente a livello territoriale e poi ci sono tutte le varie classi quinquennali. Supponiamo che noi vogliamo fare un'analisi e mettere a confronto solo due classi di età. La classe di età fino a quattro anni oppure gli ultracentenari. E vogliamo fare questa analisi, mettere a confronto queste due classi di età, non per tutto il territorio del Piemonte, ma solo per le province. E poi vogliamo vedere gli anni che sono a disposizione, perché la tavola presenta l'ultimo anno disponibile, il 2022, però ci sono altri anni a disposizione. Ora, per apportare tutte queste modifiche, cioè per ridurre la selezione di quello che visualizzate, cioè modificare le voci all'interno della tavola, c'è un'icona specifica che si chiama Criteri. Quindi, clicchiamo su Criteri e vediamo come personalizzare la tavola per come vi ho detto, per come vogliamo analizzare i dati. Anche qui dovete avere quel minimo di pazienza che il sistema recupera tutte le informazioni, in modo tale da poter agire e modificare la tavola. Come vedete, viene riproposto in alto il territorio che abbiamo visto infiancata, l'indicatore che è la popolazione residente, il sesso, classe ed età e l'anno. Abbiamo detto che vogliamo agire sul territorio, quindi clicchiamo sul territorio, diamo conferma che vogliamo modificare. Anche qui deve recuperare tutti i dati a livello comunale, quindi ci metterà un po' a recuperare la cordeliste, tutte le voci. E quindi dobbiamo solo avere un po' di pazienza. Ok, allora leggiamo. Inizialmente, quindi, Piemonte. Se clicchiamo nell'iconcina a fianco, che vi sto evidenziando con il mouse, al di sotto avete le province e se cliccate ancora una provincia, avete i comuni. Con la funzione cerca potete digitare il comune di interesse e automaticamente il sistema velocemente lo rintraccia. Però noi abbiamo detto che vogliamo fare un'analisi a livello provinciale. Invece di cliccare ogni voce, quindi ogni provincia, c'è un'iconcina che ci consente una selezione in automatico, che è questa posta alla fine della dicitura città, metropolità, no, stiamo qui, vogliamo le province, quindi alla fine di Piemonte. Cioè qui si concina dove c'è scritto seleziona e deseleziona tutti i figli, cioè tutte le voci al di sotto. E noi clicchiamo e a questo punto abbiamo preso tutte le province. Poi andiamo nella classe di età. Abbiamo detto che ci vogliamo focalizzare sui bambini e sugli ultracentenari. E poi vogliamo la serie storica, che è disponibile dal 2018. A questo punto facciamo applica e il sistema riduce le informazioni che visualizziamo a schermo. A questo punto, come vedete, la tavola già è più leggibile, perché erano troppe le informazioni messe a disposizione. Allora, possiamo iniziare a leggere i dati e vediamo che per la città metropolitana di Torino la popolazione residente fino a 4 anni, dal 2018 al 2022, passa da 82.779 a 72.430, quindi diminuisce. E gli ultracentenari, invece, da 487 salgono a 676. Quindi già iniziamo a constatare con mano quello che è il fenomeno, supportato dai dati, quello che è il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione di cui tanto si parla, per esempio. Però, ancora non siamo contenti di come vengono visualizzati i dati, perché dobbiamo comunque fare uno sforzo per vedere se il numero aumenta, diminuisce, e quindi vogliamo visualizzare la tavola in maniera diversa. Vogliamo cambiare le informazioni che sono in riga e le informazioni che sono in colonna. Per cambiare quello che viene detto il layout tabellare, dobbiamo agire sull'altriconcina, pivoting. A questo punto si apre appunto questa schermata che si chiama layout tabellare, dove vediamo che nella sezione righe è posizionato il territorio, infatti nella tavola vediamo che il territorio è infiancata nelle righe. Nelle colonne abbiamo l'anno e la classe di età, e invece il sesso, che è a tendina, l'abbiamo nella zona filtro. Allora, noi vogliamo cambiare questa disposizione. Vogliamo mettere l'anno in righe, per esempio, e il territorio invece lo vogliamo posizionare nella zona filtri, cioè lo vogliamo navigare a tendina e facciamo applica. A questo punto la tavola, appunto il sesso per esempio lo possiamo mettere a totale per avere una visione complessiva, a questo punto la tavola si è molto ridimensionata e a occhio, l'occhio legge velocemente l'andamento della popolazione fino a 4 anni nel tempo e degli ultracentenari, cioè si vede che è diminuita e che invece gli ultracentenari sono aumentati. E va bene, poi possiamo navigarla per sezzo, possiamo cambiare, passare dal Torino a Cuneo, navigare con le tendine, però noi vogliamo fare un'analisi per esempio su Torino, ci posizioniamo su Torino. A questo punto voglio cambiare il grafico, cioè voglio sintetizzare questi dati e visualizzarli in un grafico. Quindi vado in grafico, a barre. Il grafico a barre già ad occhio ci fa vedere bene la situazione, cioè vediamo che nella classe d'età fino a 4 anni i maschi sono più numerosi delle femmine per esempio e vediamo che invece nella classe ultracentenario il contrario, sono più le femmine ad essere numerose rispetto ai maschi. Però non è quello che vogliamo visualizzare, non è il grafico ottimale che vogliamo visualizzare. Vogliamo cambiare questa visualizzazione del grafico. Anche qui per cambiare la visualizzazione del grafico andiamo su Pivoting e mettiamo, vogliamo invece analizzare questi dati per anno e invece lasciare. Quindi l'anno lo mettiamo nella dimensione primaria e il sesso nella dimensione secondaria. Ora il mio suggerimento è questo. Voi, è sufficiente fare dei tentativi. Voi provate a spostare le dimensioni nelle varie sezioni. Vedete il risultato. Se non è quello che immaginate, che volete ottenere, fate un secondo tentativo. Piano piano potete familiarizzare col sistema e riuscite a ottenere poi il risultato ottimale. Quindi facciamo Applica e quindi possiamo navigare la classe d'età, in questo caso a tendina, infatti abbiamo fino a 4 anni e poi abbiamo gli ultracentenari. E con il grafico a barre, vediamo anche col grafico a barre che posizionandosi sulla voce di totale del sesso, vediamo che comunque c'è un andamento decrescente e lo stesso vale per i maschi e le femmine. Se cambiamo fascia d'età, prendiamo l'altra classe d'età, invece vediamo che gli ultracentenari aumentano. E anche così questo grafico già ci dice molto, ci sintetizza questo fenomeno. Però forse se scegliamo un grafico diverso, se per esempio se scegliamo le linee, è un grafico più efficace perché ci fa vedere ancora meglio questo andamento. e quindi possiamo navigarlo per 100 anni e più o possiamo navigarlo fino a 4 anni e vedere che diminuisce la popolazione nel tempo di questa classe d'età, i bambini diminuiscono, e invece gli ultracentenari aumentano, sempre per la città metropolitana di Torino. A questo punto posso addirittura andare anche a salvarmi questa immagine perché magari la voglio mettere in un documentino che sto facendo con gli alunni e quindi voglio andare a mettere questo grafico e poi magari fare un piccolo commento, scrivere un piccolo commento di questa sintesi che abbiamo fatto. e va bene. Ritorniamo alla tavola precedente perché nella discussione poi mi sono dimenticata di farvi vedere che come si estraggono i dati in formato Excel. quindi ritorno alla tavola iniziale dove non ho la tavola iniziale che ho modificato se invece torno indietro riapro la tavola così come la propone il sistema. perché vi volevo far vedere il grafico associato a questa tavola diciamo predisposta e come si possono anche estrarre i dati in Excel. Allora, oltre alla tavola avete il grafico corrispondente che di default viene inserito un grafico a barre e per la tavola complessiva sono state messe in evidenza le classi di età e il sesso quindi per esempio con questo grafico si vede come la popolazione più numerosa si concentra nella classe d'età 54, 55, 59 per il Piemonte ma possiamo anche scegliere un altro comune e automaticamente il grafico si aggiorna. E poi c'è anche l'iconcina delle mappe dove anche qui possiamo navigare le tendine quindi scegliere per esempio le femmine scegliere una diversa classe d'età per esempio scegliere 15, 19 e magari un diverso dettaglio territoriale mettere le province per esempio e se ci spostiamo con il mouse leggiamo i dati nel grafico. Ritorniamo alla tavola per estrarre i dati e andiamo nell'iconcina in alto a destra esporta Excel Allora abbiamo due possibilità con l'esportazione in Excel possiamo esportare i dati così come le visualizziamo a schermo e si parla quindi di visualizzazione corrente così come le vediamo a schermo cosa significa? Che la tavola riporterà il sesso a totale e vi faccio vedere il sesso quindi è a totale come vedete invece se sempre utilizzo l'iconcina in alto a destra esporta Excel ma non scelgo visualizzazione corrente scelgo intero dataset il estraggo in un file in un file Excel più fogli ciascuno per quante sono le voci che sono a tendina quindi in questo caso avrò un foglio per il totale un foglio per i maschi un foglio per le femmine e vi faccio vedere quindi abbiamo un primo foglio che i maschi quindi la tavola che i dati che leggete si riferiscono ai maschi poi abbiamo un'altra tavola che si riferisce alle femmine e poi il totale quindi questa la differenza di quando andate a estrarre i dati in Excel con visualizzazione corrente quindi estraete la tavola che avete proprio a video così come l'avete a video se invece scegliete intero dataset il file che estraete si svilupperà in tanti fogli quante sono le voci che sono presenti nei menu a tendina quindi ogni anche il grafico può essere abbiamo visto può essere esportato con esporta immagine e quindi avete sempre la possibilità di quello che visualizzate di esportarlo e anche le vostre personalizzazioni le potete estrarre sia come tabelle che come grafici quindi penso di aver esaurito diciamo tutta la parte descrittiva della sezione costruisci tavole grafici ci ritorno brevemente quindi abbiamo visto come sono organizzati i tavoli i dati le stesse tavole sono presenti nelle varie cartelle cambia il dettaglio territoriale e abbiamo visto che poi all'interno di ogni livello territoriale di ogni regione poi c'è un'articolazione per argomenti possiamo una volta individuata la tavola di interesse la possiamo personalizzare utilizzando il l'iconcina criteri per diminuire le selezioni che abbiamo quindi agendo sul territorio agendo sulle cosiddette dimensioni di analisi le classificazioni quindi la classe d'età il sesso possiamo ridurre le voci possiamo aumentare la serie storica e quindi personalizzare e ridurre il contenuto della tavola se invece vogliamo modificare la disposizione del layout e tabellare quindi la fiancata e la testata agiamo su pivoting su l'iconcina pivoting adesso andiamo invece a esplorare la sezione visualizza per territorio la caratteristica di questa sezione è che sono state predisposte per argomento tutta una serie di oggetti sono stati predisposti tavole grafici mappe e quindi per ogni argomento diciamo sono stati si è cercato di sintetizzare quelli che sono i dati più rappresentativi e poi selezionando un territorio di interesse abbiamo detto avevo detto inizialmente nella parte nella parte introduttiva che automaticamente tutti questi oggetti si aggiorneranno per quel territorio che abbiamo fissato quindi per scegliere un territorio andiamo in regione e per esempio Piemonte il solito Piemonte provincia Torino comune Aglie clicchiamo su Applica perché altrimenti non agiamo il sistema non non aggiorna le varie dashboard i vari oggetti e dobbiamo logicamente aspettare perché le informazioni che deve aggiornare non sono non sono poche giusto i tempi di risposta e vi mostro che praticamente tutte le tavole e tutti i grafici sono per il comune di Aglie si visualizzeranno per il comune di Aglie quindi se volete per esempio avere un'idea del vostro comune volete leggere i dati per il vostro comune andate nella sezione visualizza per territorio selezionate il vostro comune e avete già delle tabelle dei grafici già predisposti e quindi praticamente non dovete personalizzare nulla supponiamo per esempio di vedere cosa è disponibile per popolazione residente per sesso ed età qui c'è il grafico della piramide per età che vi volevo vi volevo far vedere all'inizio ci sono sono state messe due tabelle della popolazione residente per sesso e classe ed età quinquennale e la medesima a destra come vedete il territorio è sempre aglie e sempre aglie sono state messe due tavole gemelle in modo tale da poter modificare un anno per esempio mettere i dati addirittura del 2001 della decennale dell'accensamento decennale e confrontarli con invece i dati del 2022 quindi automaticamente le tavole vengono aggiornate e si possono confrontare e invece sotto trovate il grafico della piramide per età sempre per il comune di Aglie sempre il comune di Aglie e anche qui potete confrontare l'anno 2022 con per esempio un anno più storico il 2001 e vedere come è cambiato cambiamo argomento andiamo per esempio a regiografiche paesi di cittadinanza quindi magari potete anche se volete fare un'analisi dei dati per il vostro comune potete inizialmente navigare visualizza per territorio selezionando il vostro comune per esempio e se poi non tutti questi oggetti non tutte queste tavole grafici soddisfano la vostra analisi potete andare invece costruisci tavole nell'altra sezione costruisci tavole grafici e invece fare magari un grafico specifico per quello che volete analizzare voi e qui per esempio avete la popolazione straniera residente per sesso era geografica di cittadinanza sempre del comune di Aglie e la popolazione straniera residente quindi abbiamo e la potete vedere i dati per area geografica e sempre avete sempre la tavola speculare per poter fare il confronto tra un anno e un altro quindi potete anche qui modificare l'anno poi sotto c'è un grafico dove si può vedere che la popolazione residente straniera proviene a una provenienza dall'Unione Europea e poi anche dall'Africa settentrionale e dall'Africa orientale prevalentemente nel comune di Aglie naturalmente poi avete anche gli argomenti dell'istruzione per età dell'istruzione per cittadinanza per esempio ah mi sono dimenticata vi devo far vedere che anche ogni oggetto può essere estratto quindi una volta che trovate per esempio una tavola oppure un grafico per esempio siete sempre il comune di Aglie vi faccio evidenzia per esempio se ah beh mi interessa questo grafico lo voglio estrarre perché per il mio comune lo voglio magari allegare a qualcosa che sto a un lavoro che sto facendo con i ragazzi allora potete intanto visualizzarlo a schermo intero per esempio cliccando su questa iconcina questa iconcina qua la visualizzate a schermo intero oppure lo potete ridurre e potete anche sempre tutto si può esportare ho omesso di dirlo ma invece è importante tutto si può esportare come immagine e quindi avete il grafico l'avete già preconfezionato così non l'avete personalizzato voi diciamo che il mio intervento si può concludere qui e vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Francesca che magari non so se ci sono delle domande ti ringrazio molto Enrica puoi togliere se credi la condivisione allora sì innanzitutto grazie infinitamente per la tua spiegazione c'è una domanda interessante alla quale non ho risposto in chat perché mi sembrava che potesse riguardare un po' tutti un insegnante ci ha domandato quale potrebbe essere il vantaggio di andare a navigare su regioni e province sì forse non mi sono spiegata bene all'inizio e poi concludo la sua domanda così puoi rispondere entrambi se mancano i dati comunali cosa troviamo in più e questo è una domanda molto importante perché è proprio come sono organizzati i dati quindi forse non ho evidenziato nella parte iniziale bene come sono organizzati i dati allora rientro ricondivido lo schermo a beneficio di tutti diciamo e rinavigo un attimo alla banca dati così oltre che a dirlo a parole è più semplice vederlo proprio praticamente allora avevo detto ma mi spiego meglio che le tavole di navigazione sono identiche in ogni cartella che leggiamo quindi sono identiche per il Piemonte per la Valle d'Aosta per la Liguria quindi nel momento in cui entriamo in una regione abbiamo le stesse tavole che leggiamo nel Piemonte le stesse tavole leggiamo nella Valle d'Aosta cosa cambia? cambia il livello territoriale quindi nel Piemonte queste tavole io le visualizzo con il territorio del Piemonte ma del solo Piemonte fino al livello comunale e lo stesso vale per la Liguria quindi leggo le stesse tavole per il territorio della Liguria con le province della Liguria fino al livello comunale se entro invece in regioni e province per esempio la famosa tavola che avevo personalizzato prima la visualizziamo ho preso una tavola diversa ma uguale perché c'è la cittadinanza le singole età invece avevo preso la quinquennale in questo caso questa tavola la visualizzo non per una regione specifica e per le province di quella regione e per i comuni di quella regione ma la visualizzo per tutte le regioni in contemporanea se non ci fosse questa tavola io dovrei entrare nella regione Piemonte prendermi dati del Piemonte nella regione Liguria prendermi dati della regione Liguria e così via per metterli insieme e fare una tavola con tutte le regioni invece qui le visualizzo in contemporanea sono tutte qua le possono forse se le metto infiancata è più facile capire sposto metto il territorio infiancata e l'età la metto a tendina e faccio applica come vedete il territorio che visualizzo sono tutte le regioni non solo il territorio Piemonte sono tutte le regioni è chiaro che però in questo caso perdo il dettaglio comunale e non ho per esempio le province dovrò aprire la tavola specifica con le province allora se io sono interessata per esempio a un comune del Piemonte dovrò cliccare su Piemonte perché il comune del Piemonte lo visualizzerò solo se entro in Piemonte perché le cartelle regionali hanno i dati del territorio di quella regione completo la regione il totale regione più le province di quella regione più i dati comunali il livello comunale invece se voglio mettere a confronto più regioni non posso entrare nelle singole regioni ho bisogno di qualcosa che mi metta insieme questo territorio e quindi entrerò nella cartella regioni e province dove ho insieme tutte le regioni e tutte le province ma non ho tutti i comuni perché sarebbe una tavola megagalattica se avessi tutte le regioni tutte le province e tutti i comuni di tutte le province sarebbe una tavola enorme non so se mi sono spiegata chiedo conferma sì Enrica ti sei spiegata e ti ringrazio approfitto per rispondere a voce qualche domanda alla quale stavo dando risposta in chat qualcuno ci ha segnalato di non di avere trasmesso delle comunicazioni all'indirizzo censimento punto scuola chiocciola istat punto it alla quale non ho avuto risposta questo è molto strano perché noi quotidianamente controlliamo la posta quindi l'unico dubbio che ho è che ci possano essere stati dei problemi con l'account e andremo questo a verificarlo grazie mille della segnalazione la seconda domanda riguarda la competizione statistica dove si trovano i materiali per partecipare alla competizione statistica allora la competizione statistica raccoglie i materiali di tutti i moduli quindi per esempio con la spiegazione di Enrica voi potete andare a trovare i contenuti nella banca dati che Enrica oggi ci ha così bene illustrato però le esercitazioni vere e proprie per prepararsi alle censicare si trovano nel modulo 4 quindi nella pagina dedicata ai materiali che io stavo per pubblicarvi adesso in chat e comunque io caricherò anche le le slide che vi ho mostrato dove ci sono tutti gli indirizzi utili quindi questo per quanto riguarda diciamo gli aspetti tecnici che mi avete chiesto per ciò che concerne la banca dati censimento permanente della popolazione e delle abitazioni voi potete avere ulteriori dettagli nel tutorial grafico che spiega dettagliatamente tutti i passaggi per accedervi così come ha fatto oggi Enrica che si trova all'interno del modulo 3 quindi io posso condividervi velocemente e nuovamente le slide così vi indico quali sono i link dove voi dovete andare allora per ciò che concerne ecco vedete l'ultima slide i dettagli che riguardano l'intera iniziativa potete andare su questo primo link www.istat eccetera eccetera le informazioni per ciò che concerne tutti i materiali della quinta edizione quindi il regolamento la circolare delle indirizzate dirigenti scolastici da parte del ministero dell'istruzione e del merito dei consigli su come riportare in aula tutti i contenuti che sono all'interno dei materiali didattici trovate qui in questo link archivio 2881 02 il materiale formativo quindi modulo 1 modulo 2 modulo 3 con all'interno il tutorial grafico della banca dati che ci ha illustrato oggi Enrica e modulo 4 con tutte le esercitazioni per partecipare alla competizione statistica le censicare si trovano a questo link 278445 per qualsiasi informazione scrivete accensimento.scuola chiocciolaistat.it mi permetto visti i problemi che avete avuto con questo indirizzo di darvi anche se riesco a condividere meglio ecco questa lascio un attimo fissa questa slide così che possiate vedere nuovamente link quindi per l'iniziativa in generale il primo link per i materiali della quinta edizione il secondo link per il materiale formativo il terzo link l'indirizzo è questo per scriverci ma vi lascio anche il mio francesca.vannucchi chiocciolaistat.it eventualmente vi capitasse di non ricevere informazioni in risposta dall'account che comunque è quotidianamente controllato lo leggo anche io oltre alla segreteria organizzativa quindi mi sembra veramente strano che non ci siano arrivate le comunicazioni spero non ci siano problemi tecnici che abbiano impedito un flusso un dialogo al quale noi teniamo moltissimo che lo ha interrotto senza volerlo quindi meno male che c'è stato questo webinar che ci ha permesso ecco di confrontarci su questo argomento allora se non ci sono altre domande in chat io vi saluto Enrica vedi la condivisione dello schermo penso di no no adesso non c'è condivisione ok allora posso chiudere questo incontro e ringraziare tantissimo Enrica Massi di aver condiviso con noi la sua grande esperienza nell'ambito di questa importantissima banca dati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ma non finisce qui vi rimando al prossimo appuntamento giustamente in chat ci stanno chiedendo quando e a che ora il prossimo appuntamento sulla banca dati Istat Data che è la nuova piattaforma per la diffusione dei dati aggregati dell'istituto che vengono prodotti dall'istituto che permette di navigare in maniera completa tutta la produzione statistica dell'istituto nazionale di statistica si svolgerà su questo canale Teams quindi lo stesso sarebbero dovuti essere due canali diversi ma ci ricollegheremo su questo giovedì primo febbraio 2024 sempre alle ore 17 fino alle ore 18 per qualsiasi dubbio scriveteci 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 poi quando ci avvicineremo alle licenzi care daremo anche dei numeri di telefono così che possiate anche chiamarci 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 vi informo e vi ricordo che la registrazione sarà resa disponibile sul sito Istat nell'area dedicata ai materiali formativi quindi potrete rivedere questo video e non vi rubo altro tempo vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e ci vediamo la prossima settimana con Giovanna Coiro grazie ancora Enrica a presto buona serata a tutti grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione